E proprio in prefettura Milano il ministro dell'Interno Lamorgese ha presieduto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Ferragosto presentando i dati di quest'ultimo anno tra costante calo dei reati d'emergenza Covid con un forte aumento degli arrivi di migranti che segna un più 148%. Il servizio è di Sandra Cecchi. L'anno che ha sprofondato il paese nell'emergenza coronavirus ha segnato anche l'attività del Ministero degli Interni ridisegnando nelle priorità. Lo raccontano chiaramente i dati contenuti nell'annuale dossier del Viminale. Dall'11 marzo alla fine di luglio sono state oltre 20 milioni, quasi un terzo della popolazione, le persone controllate dalle forze dell'Ordine e quasi mezzo milione quelle sanzionate per infrazione alle norme anti-Covid. 6.700.000 gli esercizi commerciali controllati con quasi 11.000 denunce e 2.100 provvedimenti di chiusura. Per effetto del lockdown sono ulteriormente diminuiti i reati consolidando una tendenza a ribasso iniziata anni fa. Ancora in calo omicidi, rapine, furti con ben un meno 26,6% e truffe. Non conoscono freni invece le minacce agli amministratori locali e nazionali, 5,5% in più rispetto allo scorso anno e quelle ai giornalisti con un preoccupante più 51,6%. Il capitolo immigrazione segna un aumento degli sbarchi del 148% per un totale di 21.600 migranti, di cui la stragrande maggioranza, oltre 16.000, arrivati sulle nostre coste in modo autonomo, con piccole imbarcazioni. Gli arrivi che noi abbiamo avuto, così numerosi, sono stati determinati da sbarchi autonomi e quindi difficilmente gestibili nel senso di fermarli in mezzo al mare.